Fototessera di un ragazzo simpatico e questo è il titolo del nuovo singolo dei Merce Fresca, il cui video sta facendo il giro dei social a suon di condivisioni, con circa 19.000 visualizzazioni. Il singolo, insieme a Mollo Tutto e Tempo, fa parte dell'album Oggi Domani Un Concorso, arrangiato da Pierpaolo Latina, che ne ha curato anche la produzione artistica. Il gruppo, composto dal cantante Lorenzo Ciulla, Donato Emma alla batteria, Leandro Emma alle tastiere, Gabriele Migliaccio al basso, Michele Gangi al sax e Gianluca Genova alla chitarra. Per quest'ultimo video ha scelto come location la Sicilia. La band, infatti, ha fatto il giro dell'isola facendo tappa a Siracusa, Palermo, Catania, Grigento, inoltrandosi anche tra le bellezze dei piccoli comuni siciliani. Intanto è il terzo singolo estratto dall'album Oggi Domani Un Concorso, è uscito quest'anno il nuovo album The Merce Fresca ed è questa canzone che racchiude il terzo singolo che non vedevamo l'ora di farlo uscire. In realtà è una canzone che esiste da anni ma è stata modificata sia nelle parole che nell'arrangiamento e finalmente nel 2016 siamo riusciti ad inserirla nell'album e siamo riusciti a realizzare il videoclip tanto atteso principalmente da noi. Questa volta noi solitamente abbiamo realizzato i nostri videoclip a Caltanissetta. Infatti se andate a sbirciare un po' su Youtube troverete tutti i nostri video realizzati nella nostra città. Questo qui invece abbiamo voluto fare un salto, un giro, un sogno che avevo in mente da un po' e l'abbiamo voluto realizzare in giro per la Sicilia. Grazie principalmente al nostro regista di fiducia Unnisseno Alessio Abbate che consiglia a tutti ci siamo imbarcati in questi quattro giorni con più di 1300 km e abbiamo realizzato questa follia. Da Siracusa a Marsala a Palermo, questo è l'armare del Golfo e non vi sto qui a citare le altre località perché dovete andare a vedere il video di Merce Fresca dove? O su Youtube o sulla nostra pagina Facebook. I Merce Fresca nascono qualche anno fa a Caltanissetta per l'esattezza nel 2005 e canzone dopo canzone sono riusciti a conquistare i nissegni e non solo e continuano ad esibirsi condividendo con il pubblico la loro musica. Siamo in una piccola fase di tour in giro per la Sicilia la prossima tappa è venerdì 5 agosto a Campobello di Licata poi saremo l'indomani il 6 a Son Matino, l'8 a Villa Rosa il 12 a Pietro Berzia, il 19 ad Agrigento, piccola pausa e poi si ricomincia a settembre. Tutte queste sono piazze quindi vi invitiamo a venire sotto il palco con i Merce Fresca portatevi un cambio perché vi faremo sudare e questo è un po' l'inizio di quest'estate e poi vediamo a settembre cosa accadrà.